Ciao a tutti io sono Bottroberto e oggi sono venuto nel canale di MadBestGame perché Samu mi tratta male. Andiamo a vedere cosa c'è nel negozio, non c'è un cazzo, ah si c'è una mega cassa prendiamola subito. Quanto ci vuole caricare mannaggia il wifi gratis del kebabaro. 5 skip che palle non trovo più nulla mi sa che tornerò da Samu. Andiamo a fare una partita veloce perché così posso dimostrare alla mia famosa comunità che sono fortissimo. Eccoci qua con una connessione della madonna ed una tizia che mi sembra una gnocca ma mi sta sparando forse sono stato frienzonato, sta piangendo allora Godo e gli vado a rubare la cassa. Sembra che gli sto piacendo non lo so ma mi guarda come se fossi bello proviamo ad avvicinarci un po' per vedere cosa succede ma mi sembra una che ti tradisce allora gli sparo. Adesso è triste perché ha capito che io ho capito che lei tradisce proviamo a fare altre cose o posso cantare una canzone la 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 li tuoi occhi sono belli come la mia scheda madre la 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 la. Aiuto aiuto ma vaffan botto quello li ha ucciso me e la mia crush gliela farò pagare ed ora vi devo salutare perché se Matt Best Game mi scopre lo andrà a dire a Samu e mi rimetterà in cantina a cantare autoblue. Autoblue. Autoblue corro con il mio bot l'è messa lì io messola non torniamo in città brum 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 brum. Autoblue. 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 Autoblue.